Sogno di una notte di mezza estate, una fiaba shakespeariana portata in scena da una bellissima compagnia formata da dei piccoli, piccolissimi, giovani attori dai 6 ai 10 anni, quindi apparentemente potrebbe sembrare una cosa per bambini. In realtà non lo è perché abbiamo avuto un grande successo l'anno scorso ed è per questo che siamo in questa stagione meravigliosa del Teatro Ghione e sono felicissima, orgogliosa di questi piccoli grandi attori perché hanno voluto loro scegliere un un testo shakespeariano mantenendo inalterati i versi e portando in scena un messaggio, la poesia è azione, il sogno del teatro è il sogno anche della favola che portano in scena, realtà, finzione e magia. Quindi noi vi aspettiamo molto emozionati, molto felici di condividere con voi questa nostra avventura. Grazie a tutti.